Salve a tutti e benvenuti alla correzione della parte di chimica del test di veterinaria 2022. Questo è un quesito che può sembrare complicato visto come sono presentate le risposte ma cerchiamo di capire di cosa si tratta. Si scioglie un soluto saccarosio in un certo volume di acqua fino a raggiungere la saturazione e si aggiunge ulteriore saccarosio. Cosa succede se abbiamo una soluzione satura e aggiungiamo ulteriore soluto. Il solvente non è più in grado di sciogliere il soluto perciò noi avremo un contenitore ad esempio di acqua con del saccarosio lo zucchero da cucina e lo zucchero si deposita sul fondo. Quindi noi vediamo due fasi la fase liquida e la fase solida quindi è un sistema bifasico che ha due componenti acqua e saccarosio. Una parte di saccarosio è disciolta nell'acqua una parte è depositata sul fondo. Quindi questa è la risposta corretta. Vi faccio notare che affinché siano due soli componenti il saccarosio deve essere una sostanza pura cioè non si deve dissociare in acqua. Dal momento che tra la risposta avevamo solo monocomponente e bicomponente non abbiamo molte alternative. Abbiamo un quesito sulla combustione dell'H2S. 10 moli di H2S e 30 moli di ossigeno vengono posti in un recipiente chiuso. Quante moli saranno complessivamente presenti dopo la combustione completa? Notiamo subito che vengono fornite le moli di due reagenti perciò quando capita così dobbiamo sempre cercare il reagente limitante. Due moli di H2S reagiscono con tre moli di ossigeno. Perciò se abbiamo dieci moli di H2S quante moli di ossigeno servono? Ne servono quindici. Ne abbiamo? Sì. Sono presenti 30 moli di ossigeno. Perciò con dieci moli di H2S reagiscono quindici moli di ossigeno e queste ci danno lo stesso numero di moli di SO2 quindi dieci moli di SO2 e lo stesso numero di moli di acqua. Dieci moli di acqua. Dopo la combustione quindi ci sono dieci moli più dieci moli fa venti alle quali dobbiamo aggiungere le moli di ossigeno che non hanno reagito. Avevamo 30 moli sono state consumate 15 moli 30 meno 15 fa 15. Perciò nel recipiente dopo la reazione di combustione abbiamo 35 moli totali. Questa è la risposta. Qual è la struttura elettronica fondamentale dello ione F2-? Intanto il fluoro ha nove elettroni, questo ione ha due elettroni in più perciò dobbiamo sistemare 11 elettroni. Posso già osservare che nel primo caso abbiamo 11 elettroni, nel secondo ne abbiamo 9 e questo va via. Qui ne abbiamo 11, qui ne abbiamo 11 e qui anche ne abbiamo 11 perciò ce n'è solo uno che possiamo eliminare così gratis. Cosa c'è ancora di strano? Che prima di riempire un orbitale P devono essere riempiti due orbitali S. Qui c'è un 3S1 e quindi questo non può essere. Così come non può esserci un riempimento del livello 3 prima che tutti gli orbitali 2P siano stati riempiti. Qui c'è un 2P5 via. Poi osservo un 2D ma gli orbitali D compaiono solo dal terzo livello. Questo via. Abbiamo trovato la risposta corretta. In effetti se lo volessimo costruire da 0 iniziamo con 1S2, 2S2, 2P6 siamo arrivati a 10 e poi 3S1. Avendo 11 elettroni lo ione F2- ha la stessa configurazione elettronica del sodio e questo infatti è anche la configurazione elettronica del sodio. Qui dobbiamo identificare le terne di specie isoelettroniche. N3- vuol dire che l'azoto che ha numero atomico 7 ha normalmente 7 elettroni e in questo caso ne ha 10 perché ne ha acquistati 3. L'ossigeno ha numero atomico 8 acquistando 2 elettroni passa a 10 e diventa ione O2-. Il fluoro ha 9 elettroni e acquistandone 1 passa a 10 abbiamo trovato la risposta. Il consiglio qui era di partire dalle cose note quindi dalle sequenze che contengono azoto, ossigeno e fluoro. L'altra era la C. L'azoto ha 7 elettroni, l'ossigeno ne aveva 8, ne ha guadagnato 1 e passa 9. Il fluoro perde un elettrone e passa 8. È anche evidente che non possono avere lo stesso numero di elettroni il cloro, il cloro meno, il cloro più. Questo è sbagliato fin da subito. Il fluoro quando acquista un elettrone passa a 10 e questo è il numero atomico tra l'altro del neon. Il magnesio ha numero atomico 12 quando perde un elettrone passa a 11 elettroni. Qui dobbiamo trovare quegli elementi che legati in modo covalente all'idrogeno possono originare un gruppo donatore di legami a idrogeno. In pratica questo quesito ci sta chiedendo in quale condizioni l'idrogeno può formare legami a idrogeno. E noi sappiamo che l'idrogeno quando è legato a elementi elettronegativi come azoto, ossigeno e fluoro, in queste condizioni l'atomo di idrogeno può instaurare un legame a idrogeno. Perciò non dobbiamo far altro che andare a cercare tra le possibili risposte ossigeno, azoto e fluoro. Ecco qui. Quale tra i seguenti ossidi contiene il metallo in due stati di ossidazione diversi? Nell'NIO abbiamo il nickel con numero di ossidazione 2. Nella risposta B abbiamo il ferro con numero di ossidazione 2 e nella risposta C abbiamo il ferro con numero di ossidazione 3. Questi sono i due stati di ossidazione del ferro perciò vuol dire che qui se io vado a fare il conto di qual è il numero di ossidazione del ferro qui abbiamo 3x meno 8 uguale a 0 cioè abbiamo un numero di ossidazione che è 8 terzi. Una cosa strana e questo è dovuto al fatto proprio che quest'ossido contiene sia il ferro 2 sia il ferro 3. Questa è la risposta. Una domanda sul reagente limitante. Vediamo che in questa reazione noi dobbiamo avere che il numero di moli di B deve essere il doppio delle moli di A. La risposta C chiaramente è sbagliata. Il numero di moli di A è minore del numero di moli di B perché lo dice il coefficiente stechiometrico 1 rispetto a 2 quindi questo non può essere di sicuro. Sulla massa abbiamo poco da dire perché lavoriamo sulle moli perciò cancelliamo anche questo e dobbiamo ragionare sul rapporto tra il numero di moli di A e il numero di moli di B. Ripeto il numero di moli di B deve essere il doppio rispetto al numero di moli di A. Le risposte ci parlano di rapporto tra A e B. Ragioniamo in modo inverso. Il numero di moli di A deve essere la metà delle moli di B almeno la metà quindi potrebbero essere anche di più. Perciò se possono essere di più non possono essere di meno questa è la risposta corretta. Il rapporto tra il numero di moli di A e il numero di moli di B è minore di 0,5 in questo caso il reagente è limitante. In effetti dai rapporti stechiometrici vediamo che 1 scriviamo la proporzione sotto forma di frazione 1 sta a 2 come A sta a B quindi il rapporto A su B quando è uguale a 1,5 siamo nella condizione ottimale. Se è maggiore di 1,5 ancora meglio. Se invece è minore di 1,5 allora abbiamo il reagente A limitante. Intanto osservo che la C fa riferimento alla molalità. Noi non sappiamo la massa di solvente ma possiamo supporre che se abbiamo una soluzione 1 molale ci sia una mole di MgCl2 per chilo di solvente cioè per chilo di acqua e sappiamo che possiamo utilizzare per la densità dell'acqua un grammo su centimetro cubo e quindi un chilogrammo corrisponde a un litro per cui da qui noi avremmo una mole di cloruro di magnesio ma la stessa cosa la avremmo qui cioè abbiamo la stessa quantità e avendo due valori uguali sappiamo che di risposte giuste ce n'è una sola quindi questo non può essere. Qui abbiamo 2 molare per 0,5 e abbiamo nuovamente una mole quindi anche questa va esclusa. Qui abbiamo una concentrazione in massa perciò questo vuol dire che 10% di cloruro di magnesio in acqua vuol dire che abbiamo 10 grammi di cloruro di magnesio ogni 100 grammi di acqua. Però qui abbiamo il volume di soluzione quindi se consideriamo nuovamente la densità come abbiamo fatto in precedenza possiamo dire che 0,5 litri di soluzione corrispondono a 500 grammi di acqua perciò noi abbiamo 10 grammi di cloruro di magnesio in 100 grammi di acqua perciò in totale visto che abbiamo 500 grammi di acqua abbiamo questa quantità di cloruro di magnesio non c'è bisogno di fare la proporzione basta moltiplicare per 5 e si ottiene che abbiamo 50 grammi. Non può essere la risposta perché qui abbiamo calcolato le moli ma la massa molare del cloruro di magnesio è 95 grammi su moli quindi in tutti e tre questi casi la massa è di 95 grammi che è maggiore di 50. Non ci resta altro che l'ultima. Verifichiamolo. 10% massa volume vuol dire 10 grammi su 100 ml ma noi abbiamo 1000 ml quindi dobbiamo moltiplicare tutto per 10 e abbiamo 100 grammi. Lo scrivo meglio 10 grammi sta a 100 ml come x grammi sta a un litro ma un litro è 1000 ml. da qui ricaviamo x uguale 1000 ml per 10 grammi diviso 100 ml e abbiamo che 1000 diviso 100 fa 10 10 per 10 fa 100 e effettivamente 100 grammi è il valore più grande. In questo quesito abbiamo un equilibrio di cui è fornita la costante di equilibrio che per definizione in questa reazione è uguale alla concentrazione di AB diviso la concentrazione di A per la concentrazione di B. Visto che all'equilibrio le concentrazioni molari di A e di AB sono uguali le semplifichiamo e otteniamo che 1 fratto la concentrazione di B è uguale a Kc e abbiamo che la concentrazione di B è uguale a 1 su Kc ma Kc è 50 e un cinquantesimo è il doppio di un centesimo. Quindi se un centesimo è 0,01 il doppio sarà 0,02. Qui una domanda di teoria in cui dobbiamo trovare l'affermazione falsa relativamente a un catalizzatore. Rimane inalterato al termino di una reazione? Sì. Modifica il meccanismo della reazione? Sì. Può consentire di ottenere prodotti diversi da quelli ottenibili senza catalisi? Sì. Consente di ottenere una maggior quantità di prodotti all'equilibrio? Ecco questa era la risposta falsa. Si poteva anche magari non conoscere tanto la terza ma quando si arriva qui sappiamo che l'equilibrio è perturbato dalla concentrazione di reagenti e prodotti, dalla pressione, se ci sono determinate condizioni, dalla temperatura, ma il catalizzatore non modifica le concentrazioni all'equilibrio. Può far raggiungere l'equilibrio in un tempo minore che è quanto riportato qui. Perciò l'affermazione falsa è questa. Questo è un quesito classico. Dobbiamo trovare chi si ossida e chi si riduce. Qui abbiamo due ossidi di ferro. I due ossidi di ferro che contengono il ferro nei due stati di ossidazione più 2 qui più 3 qui. Perciò il numero di ossidazione aumenta, la specie si è ossidata. Se si ossida è riducente. Perciò questo è da eliminare, questo è da eliminare, questo è da eliminare perché è una reazione di ossido riduzione e quindi dobbiamo capire chi è che si riduce. Ma vedete che l'ossigeno si trova legato sempre nelle sue classiche forme, quindi non è un caso particolare dell'ossigeno. L'ossigeno ha numero di ossidazione meno 2 tranne nei perossidi, tranne nei composti del fluoro, tranne quando è isolato. Quindi l'unico che si riduce è il manganese. Lo verifichiamo. Qui il numero di ossidazione del manganese è più 7. 7 più 1 fa 8 e qui abbiamo meno 2 per 4 che fa meno 8. qui l'ossigeno è meno 2 e il manganese è più 2 e quindi il manganese si è ridotto. Questo è un quesito sulla teoria acido base di Bronsted e Loury. Dobbiamo trovare la coppia acido base coniugata. Qui non è tanto difficile perché le coppie acido base in questa reazione sono l'H2CO3 acido che perdendo un idrogeno diventa HCO3 meno che la sua base coniugata. E poi abbiamo pH3 base che acquistando l'idrogeno ceduto dall'acido diventa pH4 più che è il suo acido coniugato. Quindi noi abbiamo pH3 e pH4 più è la coppia base col suo acido coniugato e H2CO3, HCO3 meno è la coppia acido con la sua base coniugata. Tra le possibili risposte troviamo che questa è quella corretta in quanto questa non è presente. Rimanendo nell'ambito del capitolo su acidi e basi abbiamo una domanda sulle soluzioni tampone. Viene richiesto di identificare la soluzione tampone. Intanto andiamo a colpo sicuro eliminando quelle in cui è presente un acido forte o una base forte o entrambe. Qui ci sono entrambi, un acido forte e una base forte e qui c'è una base forte. Qui abbiamo un acido forte quindi rimangono questi due casi. Una soluzione tampone costituita o da un acido e un suo sale oppure una base debole con un suo sale o per essere più precisi con il sale della base coniugata dell'acido o con il sale dell'acido coniugato della base. Qui noi abbiamo un acido debole con un sale della sua base coniugata. Il CH3COH da origine a questa dissociazione ovviamente H più lo scrivo per comodità e quindi questa è la base coniugata del nostro acido e CH3CONA cioè l'acetato di sodio è il sale della base coniugata. Qui abbiamo delle molecole organiche. Dobbiamo identificare il 2-metil-1-butanolo. L'1-butanolo vuol dire che l'OH è attaccato al primo atomo di carbonio. Intanto escludiamo la E che è un etere. Escludiamo la B perché qui l'OH sta a metà della catena. Ci restano ovviamente queste prime tre. Il fatto che sia 2-metil vuol dire che sul secondo atomo di carbonio ci deve essere un gruppo metile. Dopodiché avremo che qui possiamo scrivere CH2, CH2, CH3. Abbiamo 1, 2, 3, 4 atomi di carbonio. In prima posizione c'è il gruppo H quindi è 1-butanolo e questo è in posizione 2. Avevo messo un 2 di troppo. In posizione 2 abbiamo il gruppo metile. Quindi andiamo a vedere quale di queste formule rappresenta quello che ho scritto qui. Si vede abbastanza facilmente che è questa perché questo gruppo tra parentesi CH3 sta a indicare questo radicale qui. Questa non era una domanda molto semplice perché dobbiamo trovare quale elemento non si trova mai in natura lo stato elementare. Quindi queste cose si studiano quando si analizzano i vari gruppi della tavola periodica quindi vari elementi e al limite si può andare a scoprire questa cosa. Però l'argento è un metallo, l'argon è un gas nobile, l'azoto è nell'atmosfera e il carbonio si trova sotto forma di grafite o diamante. Cioè siamo arrivati facilmente a determinare il sodio come risposta corretta. Ci poteva essere magari un dubbio tra argento e sodio. Essendo però un metallo prezioso si poteva concludere che l'argento si trovasse puro sotto forma appunto di elemento mentre il sodio non si trova allo stato elementare. Sappiamo che tra l'altro il sodio è molto reattivo in presenza di ossigeno reagisce in modo abbastanza violento per cui è difficile pensare che si trovi allo stato elementare. Così come nel test di medicina anche qui abbiamo un recipiente rigido che contiene un gas e poi vengono inserite altre moli dello stesso gas. Il fatto che il recipiente sia rigido vuol dire che il volume è costante. Si vuole anche la pressione costante perciò noi abbiamo considerando P per V uguale nRT indicando con T1 e con n1 rispettivamente la temperatura e il numero di moli abbiamo che P, V e R sono costanti perciò abbiamo che n1T1 è uguale a P, V su R. Possiamo scrivere la stessa cosa per la situazione 2 dove P e V sono costanti e abbiamo un numero di moli che è diverso e anche indicato quante sono e otteniamo nuovamente che n2T2 è uguale a P, V fratto R. Questi termini sono costanti perciò possiamo scrivere che n1T1 è uguale a n2T2. Ma n1 è uguale a 1 ed n2, attenzione, non è uguale a 2 perché vengono inserite altre due moli perciò alla mole già esistente vengono sommate altre due moli perciò abbiamo che n1 è uguale a 1, n2 uguale a 3 e la temperatura T2, quindi la nuova temperatura sarà n1 su n2 per T1, cioè T1 diviso 3. Vuol dire che la temperatura assoluta dovrà diventare un terzo rispetto a quella iniziale. Questo quesito sarebbe facile se chiedesse solo il numero di ossidazione dell'azoto all'interno di questa molecola. Normalmente quando si parla di ibridazione SP, SP2, SP3 si fa riferimento all'atomo di carbonio. Iniziamo con la parte facile. L'ossigeno è meno 2, meno per 4 fa meno 8. Per bilanciare il meno 8 ho bisogno di un più 8. Abbiamo due atomi di azoto, 8 diviso 2 fa 4. Credo che questo non comporti alcuna difficoltà. Quindi escludiamo queste. Disegniamo questa molecola sapendo che abbiamo due atomi di azoto e 4 di ossigeno e verosimilmente li mettiamo in questo modo. Ricordando che l'azoto ha 5 elettroni di valenza e l'ossigeno 6 abbiamo una situazione un po' incompleta. Infatti questo è un caso un po' particolare perché se noi qui mettiamo un doppio legame abbiamo messo un legame in più all'azoto e dovremmo mettergli un più qua e anche a lui. Perciò a parte questo aspetto vediamo che sicuramente non può esserci un'ibridazione di tipo SP3 che presenta una struttura tetraedrica bensì una struttura SP2. Ricordate gli alkeni in cui il carbonio e ibridato SP2 hanno questa struttura? Beh a parte questi aspetti particolari su cui non andiamo a indagare abbiamo la stessa struttura e quindi l'azoto si trova ibridato SP2. La risposta è questa. Siamo arrivati agli ultimi due quesiti. Intanto se volete lasciare un like questa cosa è gratuita e quindi male non vi fa, fa bene a me, vogliamo preparare 10 litri di una soluzione di NaOH a pH 12. Come possiamo procedere? Avendo una base, idrossido di sodio, andiamo a determinare quant'è il pOH che è 14 meno pH quindi il pOH è uguale a 2 e la concentrazione di ioni OH meno sarà data da 10 alla meno pOH quindi alla meno 2 molare. Questo è quello che vogliamo ottenere. Abbiamo il volume perciò avendo la concentrazione e il volume possiamo trovare quante moli ci servono per ottenere questa soluzione. Il numero di moli è dato dalla concentrazione di moli OH meno per il volume perciò 10 alla meno 2 e questi sono moli su litro per 10 litri otteniamo 10 alla meno 1 moli. Ora queste sono le moli di OH meno ma come dissocia l'NaOH? È il caso semplice perché da una mole di NaOH otteniamo una mole di OH meno quindi abbiamo delle quantità equimolari. Vuol dire che se ho 10 alla meno 1 moli di OH meno devo avere 10 alla meno 1 moli di NaOH e dal momento che la massa molare è 40 questo vuol dire che la massa di NaOH deve essere uguale a 10 alla meno 1 moli per 40 grammi su mole. Questo vuol dire 4 grammi. Perciò in 10 litri di soluzione dobbiamo avere 4 grammi. Questa è la risposta. Infine non poteva mancare un bilanciamento visto che era presente anche nel test di medicina. Se volete dare un'occhiata ai video che ho realizzato per il test di medicina 2022. Vi lascio in descrizione i link ai video. Qui abbiamo da bilanciare questa redox cosa che non è mai troppo banale però avendo già tutte le possibili combinazioni di valori si potrebbe andare a sostituire una per uno le opzioni presenti e quindi andare a vedere se è bilanciata la reazione. Questo può portare via del tempo però possiamo subito notare che il coefficiente A davanti al ferro deve essere uguale al coefficiente D. Il numero di atomi di ferro deve essere uguale. Noi possiamo considerare che A deve essere uguale a D. Poi il manganese si trova qui e si trova qui perciò il coefficiente C deve essere uguale al coefficiente E. In questo caso serve a poco perché abbiamo più possibilità. Questa è valida, questa anche e questa anche. Perciò abbiamo solo eliminato l'ultima. Consideriamo l'ossigeno. Qui abbiamo F e qui abbiamo C e il numero F deve essere quattro volte il numero C. quindi F deve essere quattro C. Siamo arrivati a due sole possibili risposte e a questo punto andiamo a sostituire. Abbiamo già praticamente ridotto le possibilità. A questo punto potremmo lavorare con l'idrogeno ma potrebbe non essere definitivo perché vedete P deve essere il doppio di F e in effetti lo è in entrambe queste due risposte. Lavoriamo sulle cariche. Se noi andiamo a sostituire il 2 al posto di A e 8 al posto di B otteniamo qui un numero di cariche pari a 4 cariche positive più 8 fa 12 cariche positive più una carica negativa perché C uguale a 1 quindi 12 meno 1 e abbiamo una carica pari a 11. A destra abbiamo qui il 2 che moltiplica 3 fa 6 cariche positive più 2 cariche positive fa 8 e abbiamo una carica più 8 e allora deve essere per forza la C. Verifichiamo se mettiamo 5 qui abbiamo 10 cariche più 8 fa 18 meno 1 fa 17. A destra abbiamo 15 più 2 17 e questo è confermato. Perciò qui dobbiamo lavorare o con le masse ma se lo facciamo alla fine non ne caviamo nulla perché rimangono queste due opzioni dobbiamo ricordare che in queste redox in forma ionica dobbiamo bilanciare anche la carica. naturalmente questa si poteva fare partendo in quarta con il bilanciamento di una redox che però può portare delle insidie quindi se si conosce il metodo lo si applica tranquillamente ma visto che non è proprio una cosa banalissima qui invece non ci sono considerazioni da fare sulla chimica di per sé ma semplicemente sull'andare a bilanciare dei numeri e quindi forse questa era la strada più comoda. Ragazzi spero che il video vi sia stato utile io vi saluto e vi ringrazio ciao